Condominio del cazzo! E tu chi sei? E tu chi sei? Chiari studenti? Chiaro? La tragica! Non lo vogliono! Ti chiedo solo di farmi capire! Lo voglio! Mi vuoi come tuo compagno? Non lo voglio! Chiedere alle stelle? Incontrare l'amore? Una campagna pubblicitaria? Tu sei la mia vita! Perfetto! Ehi bello! Oh no! 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 Grazie a tutti